benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi nuova recensione sul canale per quanto riguarda un'unità che però attualmente credo non sia disponibile sto parlando della west virginia 44 è una delle navi che abbiamo completamente saltato durante l'evento estivo quando il canale di youtube era un po in vacanza quella vacanza annunciata più o meno tra luglio e metà agosto e oggi andiamo praticamente a recuperarla è una nave da battaglia comandanti che in realtà ha già visto in passato la sua presenza in gioco in realtà è ancora presente nell'armeria nel premium shop però nella versione base west virginia tier 6 qui nella versione 44 è elevata al tier 7 ha un quantitivo di hp leggermente diverso e alcune caratteristiche che la rendono diciamo abbastanza differente nel gameplay rispetto alla sua versione classica tier 6 potete vedere dalla minima app siamo qua su heaven ranger contro furio situazione quasi top tier in realtà ci sono diverse navi tier 8 in acqua per cui nella storia avversari il pericolosissimo cuni berti sto ovviamente scherzando e poi la risciglia comunque che vuole una buona nave poi andiamo anche comunque la presenza della malfi un buonissimo incrociatore italiano da flanking questo setup che vi farò vedere poi a fine partita è molto strano per una battaglia americana perché siamo con un line up full secondaria in armi quindi effettivamente sfrutteremo al massimo i suoi precisi canoni da 127 mm particolarmente buoni nel generare incendi come la maggior parte di queste batterie in world of worship diciamo anche su altre unità più famose con le secondarie come l'ohio e la ottima georgia tier 9 per non parlare poi della leggendaria massaciusa del tier 8 la west virginia qua è sicuramente la particolarità più grande in realtà anche negativa della west virginia ovvero la pessima orribilante capacità di manovra ridotta a 22 nodi in particolare per essere precisi 22 nodi punto 1 ma con la bandierina a bordo altrimenti è ancora più lenta qualcosa di abominevole comandanti il suo capitato di dhp 59100 con 343 mm di città della laterale discretamente nascosta in realtà è coperta da un rivestimento da 32 35 che può avvertire nella scheda armatura che comunque è un vantaggio solo sulla carta perché in realtà è un generatore di incendi e di danni per le gambot avversari che vi sparano contro la prula poppa da 26 mm qui non è assolutamente un rompighiaccio e il suo rivestimento antitorp è eccellente per una nave americana 37 per cento quella che avete visto appena adesso arrivare sulla nostra fiancata di destra più o meno in direzione di c6 era il cannone in arrivo della richelieu quella salva lì ci ha veramente fatto molto molto male e anche nonostante sia particolarmente lontana richelieu con la sua eccellente balistica ci trova prendete come come se fosse acqua due passi perché la nave è talmente lenta che per i suoi canoni è uno scherzo trovarci ora se guardate la renown decide bene di mettersi lì bella broadside ai siluri ma qua capite subito il livello dei giocatori un po ormai che ci sono nelle random battle di world of warship uno giocatore di battleship intelligente non accorcerebbe mai in quel modo su un cap a inizio partita lui ci è finito in mezzo tra sommergibili destroyer portare in arrivo bombe a tago c'è di tutto lì in mezzo e ovviamente lì con la sua nave da battaglia che in realtà è un battle cruiser per quanto riguarda poi la storia della nave comandante che tratteremo poi in un altro video perché vorrei dedicarci un video di legione dei mari ma la vera west virginia quella del tier 6 perché come sapete nave che comunque ha combattuto anche nel massacro di per l'arbre sta poi realmente messa a galla dopo che si era adagiata sul fondo in una zona dove poteva essere effettivamente recuperata insomma una nave che ha rappresentato tanto per l'america nella seconda guerra mondiale perché comunque era un orgoglio della frutta del pacifico un pezzo di storia resistito a quell'attacco leggendario che poi ha dato il via alla guerra americana nel pacifico con i marini se tutto il resto per quanto riguarda uno dei punti di forza della nave a livello di movimento perché come sapete i motori non sono il suo forte è la timoneria è infatti una timoneria da 750 metri di raggio virata particolarmente buono anche perché lei è una nave molto compatta se non sbaglio è una classe colorado quindi è comunque una nave che ha la capacità di girare piuttosto velocemente e tra l'altro questo timone risponde in massa efficiente in circa 14 secondi e la nave essendo così corta risponde quasi subito nonostante la velocità sia particolarmente ridotta se guardate qui non stiamo aprendo il fuoco i nostri 406 questo perché speravamo in qualche modo che la figi potesse in qualche modo non so effettuare una virata a 180 90 gradi invece non lo fa e quindi siamo costretti a spararci un po' quando lei è in allontanamento verso la sinopo alleata per quanto riguarda le sue capacità di mimetismo sono diciamo discrete per essere un tier 7 è infatti una corazzata che viene avvistata via acqua a 12 km e 600 metri di massima spettabilità e quindi in superficie e 9 km e 200 metri via aria e via immersa qui speravo di riuscire a trovare infiancata il budioni ma lui scompare poco prima ovviamente il colpo si perde non registra più la posizione della nave la dispersione si ampia e tutti i nostri proiettili finiscono per colpire quella collinetta rocciosa sull'isola sulla nostra destra il nostro attacco anti sommergibile è un air strike doppio è come una bomba però singolo da 3400 quindi una sola bomba per attacco di fatti è piuttosto limitato ma ovviamente stiamo parlando di una nave tier 7 fino a 8 km con una ricarica standard di 30 secondi quella generalmente non cambia quasi mai per quanto riguarda l'attacco anti sommergibile delle corazzate a questo punto non possiamo fare altro che spingere diciamo in direzione della sinop come anche della figi questo per cercare di finirli ma soprattutto per cercare di raggiungere il cap di a e quindi mettere un po di pressione la porteria avversaria come avete visto prima il sommergibile lascia delle macchie di nafta in acqua quindi ci fa veramente capire la sua posizione ma comunque è spottato in questo momento pensiamo magari dal dal radar probabilmente del del sommergibile avversario il radar immerso il sommergibile avversario e mentre la risceglie annienta la nostra portaerei che non è particolarmente svelta è rimasta completamente ferma nonostante quegli altri spingessero nell'inizio partita forse pensava di essere un isolotto più che una portaerei e con la picco inesorabilmente quindi nonostante siamo in vantaggio di cap e anche di punti oltre che di navi abbiamo perso la nave assistenza più importante di questa partita dopo neanche sette minuti gli alleati di blizzard ragazzi sempre straordinari nelle random battle il nostro sommergibile continua a incalzare il sommergibile avversario salmon che per un attimo era ancora stato spottato di conseguenza ennesimo attacco aereo con le nostre bombe da 3400 e questa volta le bombe vanno segno non solo vanno segno aprono letteralmente in due il sommergibile avversario a questo punto andiamo strada libera verso la sinop nemica qui entrano in azione le nostre batterie secondarie perché si comandanti è settata full secondarie per una volta ho voluto ascoltare la uber gaming devo dire che al tier 7 questa west virginia 44 full secondarie ha il suo perché anche perché per certi versi è andata anche a potenziare un po la compartimento antiaereo e quindi devo dire che la nave ha questa duplice formula di abbattere aerei e mettere a segno colpi con il 127 in maniera piuttosto efficiente i suoi cannoni principali comunque che state ora vedendo in azione sono composti da quattro torri binate da 406 mm in questo è identica alla west virginia tier 6 ricaricano in 30 secondi e hanno un brandeggio pessimo di 45 secondi e 180 che in realtà potete portare a 37 secondi e mezzo se deciderete di utilizzare come ho fatto io l'abbrandeggio torri migliorato del comandante questo colpo a 231 metri di dispersione con 1.8 di sigma fino a 17 chilometri e 100 direi decente non il top per forma sicuramente decente non merita sicuramente l'insufficienza da questo punto di vista il figi ci provoca per l'ultima volta e di fatto ci permette di segnare il nostro secondo affondamento e mentre fubuki e il nostro secondo sommergibile vanno ad attaccare il cab di alfa difeso dalla porta aerei e anche dalla malfi nemico decidiamo di unirci in questo gruppo che prevede anche l'elena sulla nostra sinistra per attaccare poi il cab di alfa che in questo momento è già sotto attacco dei nostri alleati a destra se notate dopo che la nostra potere sta affondata la ranger ora che giace in fondo al mare fa da spettatore alla ricciudie che sta ora rallentando e forse quasi tentata di tornare indietro perché lo voglia fare forse spaventata dalla tago della duca di york anche se nonostante sia una corazzata potrebbe tranquillamente fare a pezzi la duca di york non è praticamente una nave adatta al tanking contro una ricciudie però lei sembra essere particolarmente timida forse teme che ci sia qualche sommergibile ma in realtà i sommergibili sono molto lontani dalla sua posizione la furious è rimasta giusto spottata qualche secondo poi si è spostata a destra a questo punto tutta la nostra attenzione va sui due tier 8 in formazione che sono anche in divisione ovvero il quiniberti e la malfi questi canoni che state vedendo ancora in azione hanno un munizionamento classico incendiario ap con due balistiche diverse 803 metri al secondo super veloce il colpo in h e mentre 768 metri al secondo il colpo ap in questo la merena americana è quasi sempre infatti in questo modo 39 per cento di fire chance con 5.900 di danno massimo per il proiettile incendiario 12.400 il pesante colpo da 406 ap della nave a questo punto se guardate la malfi affonda l'elena alleato rimaniamo quasi da soli perché è la nostra monarch è molto indietro e soprattutto il nostro sommergibile non può certamente pensare di competere con la velocità della malfi la secondaria ora e cominceranno a sparare parecchio 8 turbinate da 127 mm con ricarica pesata in soli due secondi netti 9,5 chilometri di gettata con 1800 di danno e 7 per cento di fire chance la furious ovviamente teme che noi possiamo poi sfogare verso di lei decidi di dare una mano al alla malfica la sta stupidamente accorciando contro la nostra secondaria e contro i nostri 406 ovviamente grazie all'u69 possiamo vedere in maniera anticipata l'arrivo dei siluri e quindi cercare di gestirli per imbarcarne il meno possibile la malfi fa questa stranissima manovra dando il broadside non aspettavamo altro i colpi continuano ad entrare in maniera incessante arrivano poi i siluri anche del quiniberti probabilmente o della malfi lancetti precedentemente e arriva la prima delle nostre due vi spoiler o medaglie di secondaria di questa partita e vedere con le secondarie ragazzi fa paura sta nave certo è lenta ma se riuscita ad accorciare li fate i danni li fate come anche su qualsiasi generale anche sulle più pesanti e quindi berti ora sta ancora accorciando vuole sempre che voler andare a uccidere il nostro sottomarino ma le secondarie pensano il contrario giù la seconda botta secondo closing quota expert e seconda kill sempre con le secondarie la cosa incredibile sta nave mi diverte un sacco giocarla quando qualcuno vuole stupidamente accorciare verso di noi la furis ora viene nuovamente spottata probabilmente non ancora dal sommergibile oppure dal devonshire a destra di conseguenza speriamo che i nostri 406 sulla sua fiancata oltre alle secondarie particolarmente buone abbiamo questa antiera assolutamente potente con cannoncini da 20 40 mm 331 danno continuativo è molto alto per un tier 7 e 4 c e 1400 radiante fino a 5,8 chilometri completano il tutto questo setup diciamo di consumabili che prevede un repair party molto speciale non so se avete visto la ricarica del consumabile questo repair party pensate ricarica in soli 38 secondi è una delle riparazioni più veloci e potenti del gioco le generano infatti quasi 400 hp per 28 secondi con questa imbarazzante ricarica l'ottimo poi defense fire di barrage che aumenta del 300 per cento il danno continuativo sugli aerei quando lo utilizzate che permette quindi di aumentare la potenza antiera e infine la classica scelta fighter e scout io preferisco sempre lo scout in questa circostanza perché comunque sparando solo 17 chilometri e incontrando spesso i tier 8 e i tier 9 che hanno ampie gittate per rischio avere sempre un extra yard per quanto riguarda la gittata dei canoni principali che comunque diciamo che non sempre vanno a segno ci manca comandante il kraken e puntualmente il kraken arriva adesso questa volta non c'è sfuggito comandante grazie comunque all'ottimo spotting del devonshire che gli aveva tagliato la strada tra l'altro la portiera inglese avversaria dunque kraken portato a casa quasi un milione e 300 di bottino un'ottima partita per un tier 7 doppio medaglia devasti scusate mi devasti doppia medaglia di close quarter di secondaria ovviamente il kraken 44 colpi non sono tanti 127 di secondaria invece lo so ne come però sarà comunque una nave non tedesca del tier 7 questo è il nostro punteggio di squadra siamo arrivati ampiamente primi quasi 600 punti di disavanza sul secondo comunque l'ottima graspa che ha giocato al centro sul lato destro oltre che devonshire potete vedere la nostra portiera ripiallata quasi subito la portiera avversaria era oggettivamente migliore ma poi non di tanto perché comunque è arrivata a metà classifica anzi nella zona bassa diciamo che non è stato ampiamente un fattore del match comunque questa nave si comporta abbastanza bene anche quando gioca contro navi di tier superiore tipo rotto anche se in maniera limitata se fossero rotate tutte 8 il discorso era ovviamente diverso per quanto riguarda i moduli e le skill consigliate a bordo della west virginia 44 che è diversa dalla west virginia normale e la seguente è un setup full secondario che ha potenziato gli incendi oltre che il danno radiante che possiamo fare con i proiettili incendiari quando speriamoci sommergibili brazo su torri migliorato perché obiettivamente i comandanti 45 secondi diventano altrimenti difficilissimi da gestire e le torri diventano quasi immobili nello spostamento quindi è una scelta obbligata potenziamento poi delle secondarie della ricarica adrenali rush diminuzione degli incendi a bordo perché comunque questo rivestimento che vedrete tra poco sulla diciamo armatura è problematico e poi il consummate per portarla a questo mimetismo di 12.6 di spottabilità via acqua come sempre lascio a voi la scelta se utilizzare il fire prevention come abbiamo fatto noi sul quarto livello quarta colonna a destra oppure metterci la skill che migliora i reperiparti oltre che il numero di reperiparti a bordo come sapete i reperiparti riparica in un attimo potrebbe essere comunque una variante interessante ma io preferisco comunque avere sempre una diminuzione degli incendi perché comunque tendiamo spesso a sfinire sotto il focus fire dei cannoni incendiari e dei destroyer avversari specialmente quando andate nel combattimento ravvicinato con le secondarie questa invece è per quanto riguarda il discorso legato all'armatura come vi dicevo prima questo rivestimento da 32 e da 26 è onnipresente semplicemente solo c'è un extra che varieva a 31 nella zona diciamo delle torri poppier ma è veramente molto piccolo e comunque non fa la differenza gli incendi sulla nave cadono con grande irregolarità oltre al fatto che se guardate le sovrastrature sono gigantesche da 16 mm e anche quelle sono facilmente colpibili dalle bombe incendiarie oltre che dai proiettili incendiari di cruciatori e ovviamente delle gambot avversarie questo rivestimento da 35 che è il suo vero e proprio segreto contro i siluri che effettivamente lavora bene ma poi a proteggere la cittadella che vedremo poi nella prossima schermata questa è la cittadella se guardate è particolarmente bassa è leggermente più bassa della linea di galleggiamento è portata poi da questa piastra gigante da 343 che effettivamente è la cintura corrazzata della nave e questo devo dire che lavora molto bene quando la nave riesce ad angolarsi devo dire che per certi versi sopporta meglio i colpi a pi rispetto ai colpi incendiari che invece grazie alle sovrastrature pessime a quel pessimo ponte da 26-32 diventa molto più difficile da gestire quindi effettivamente teme di più gli incendi e i proiettili incendiari che i colpi delle altre corazzate anche in questo è una caratteristica che per renderla maggiormente competitiva nel combattimento ravvicinato ecco perché anche un'extra portazione sui siluri che non avendo un sonar sono una minaccia importante quando siete in brawling fight contro navi che potenzialmente potrebbero averli dei torpedo a bordo questo comandante invece è il nostro bilancio finale per quanto riguarda la voice Virginia 44 se dovesse comunque tornare a disposizione e penso lo sarà prima o poi è un bilancio leggermente in positivo anche se non di tanto punti di forza canoni da 406 che comunque sono una rarità al tier 7 buon timone, secondaria potente e precise l'avete visto fino a 9,5 km anti-era discreta, direi più che discreta specialmente quando utilizzate soprattutto il suo consumabile di barrage il consumabile repair party ricarica in solo i 38 secondi è straordinario in questo permette un'extra sopravvivenza alla nave piuttosto dilungata divertente poi perché comunque come tutte le navi secondarie il gameplay diventa più di manico e di conseguenza più bello da attuare in partita e meno monotono rispetto al classico tiro da cecchino da lontano e infine il mimetismo è decente è comunque una nave che riesce anche se lenta ad avvicinarsi poi in spot ed aprire il fuoco quando magari gli altri almeno se lo aspettano oppure a disingaggiare in situazioni piuttosto frenetiche e preoccupanti questo sicuramente è un punto di forza della voice Virginia 44 i punti deboli molto lenta in manovra perché comunque eredita questi pessimi motori dalla voice Virginia principale mediocre brandeggiatori perché è molto lento e quindi siete obbligati a spendere quei due punti del comandante armatura assai vulnerabile specialmente agli incendi tende a giocare in maniera rischiosa perché giocando spesso all'adosto della prima linea o avendo solo questa agitate di 17 km spesso viene messa in condizioni di essere bersagliata dagli avversari senza che lei possa effettivamente rispondere e in quel caso la vostra partita diventerà molto nervosa e dannatamente frustrante tende a giocare in maniera rischiosa e poi non sempre disponibile perché comunque in questo momento non è in vendita che io sappia però potrebbe tornare a presto e infine tende ad incrociare spesso i tier 8 grazie al bilanciatissimo matchmaking della wargaming per loro questa cosa va bene per me è una grande castroneria incontra spesso i tier 8 in questa partita siamo stati fortunati c'erano anche qualche tier 6 ma soprattutto c'erano diversi tier 7 pari tier se ovviamente fossero stati 8 o 10 navi su 12 tier 8 il discorso sarebbe stato diverso lasciamo poi stare i tier 9 che si ahimè poche volte però alcune volte capitano anche quelli in quel caso fatevi il segno della croce e pregate perché sarà una partita molto molto difficile sul finale come sempre vi ricordo la nostra attività settimanale su Twitch siamo infatti live sul sito Viola dal lunedì al venerdì dopo le 20 giù nell'info box c'è il link di accesso al nostro canale se volete iscrivetevi pure unitevi a noi durante le nostre avventure tra mare insieme a Mr. Grey e fateci compagnia durante le normali sessioni di live della settimana vi ricordo come sempre che sul canale di Twitch è lì che attuiamo veramente il nostro la nostra produzione è lì che prendiamo i contenuti che poi portiamo anche su YouTube se volete veramente darci una mano e avete magari Amazon Prime lo potete collegare a Twitch tenere quindi Prime Game in maniera completamente gratuita è sempre un'estensione dell'abbonamento di Amazon Prime e a quel punto potete decidere di abbonarvi al nostro canale per 30 giorni senza pagare un centesimo pagherà tutto Amazon e poi ogni 30 giorni se volete potete nuovamente fare l'abbonamento sempre gratuito e continuare a supportare il canale oppure andare ad aiutare qualsiasi altro streamer della piattaforma di Amazon come volete voi comandanti un grazie sempre gigante a tutti i comandanti che decidono di aiutare me e la Mirelio Grigio nella nostra avventura tra i mari di World of Warships comandanti per la West Virginia 44 video che mancava sul canale perché comunque avevamo saltato completamente il suo lancio in estate è tutto noi ci risentiamo possibilmente la settimana prossima o magari con un video ancora questa settimana con le nostre avventure insieme all'ammiraglio del Lago di Garda come sempre buona caccia